Raga buonasera, siamo qui con il maestro Visconti per dirvi una cosa da poco tempo è uscito il video sul canale di Napoli Music su Youtube della festa di 18 anni di Andrea dove Gaetano dedica un piccolo pezzetto di una canzone per fargli tanti auguri al fratello Gaetano giustamente non è un ragazzo che studia canto però ha messo tutta la sua emozione per fargli questo regalo e noi insieme a Lucio Di Bonito che non c'è mandiamo sempre il final del saluto ciao Lucio ciao Lucio noi abbiamo pensato di fargli questo regalo gli abbiamo scritto queste parole il maestro ha accodato il piano se vuol dire no? ha accodato il piano e gli abbiamo scritto questa canzone qua il video è anche sul canale Napoli Music come ho detto e la canzone fa così vediamo se vi piace grazie a tutti buon anno a tutti invitati ti canti questa canzone ti voglio far capire un bene che provo per te tanti auguri a te ti stai urnato lo porterai tu sempre insieme a te tanti auguri la canzone si titola così raga spero che vi piaccia forte bacio e buon diciottesimi a tutti quanti che lo festeggiano quest'anno ok? ciao